Bene ragazzi, per citarvi un famoso rapper, Guess who's back, back again. Perché sì, infatti, ritorniamo, almeno fino alla prossima stronzata della Bandai, con le guide team building delle treasure map di Treasure Cruise. In fondo bastava molto poco, semplicemente bastava smettere di sfanculare l'ordine di uscita dei contenuti. Per fortuna, così non è stato già da un paio di mesi, non lo sarà per i prossimi, fino a quando i binari di Japan e Global si uniranno. A quel punto lì non si può più sfanculare niente, avremo la certezza che non lo faranno più. Ci voleva veramente molto poco. Le regole, anche se è passato del tempo, le dovreste sapere, comunque sono segnate qui a schermo, mi raccomando, ricordatevele, perché sono le regole che applico ogni volta che faccio il team building delle treasure map. E soprattutto vi ricordo di supportare quello che state vedendo. Iscrizione, condivisione, mi piace, lo sapete, non voglio perderci ulteriore tempo. La treasure map di cui andremo a parlare oggi è Treasure Map Koala, una treasure map parecchio strana a livello di point booster. Questo perché i point booster più alti, essendo garantiti, danno un punteggio nettamente inferiore rispetto alle altre treasure map. Cosa che ha subito delle critiche da alcune teste di cazzo, ma ci sta essendo garantite, cioè gli altri non erano garantiti, quindi ci sta che diano un punteggio inferiore. Ma è un qualcosa di cui parleremo poi più avanti nel commento finale. Direi però di partire con treasure map koala, però invece dall'invasion, che sarà Sabo. Sabo sarà blu, allo stage 2 ci sarà Lindbergh, che sarà invece verde, che vi darà block orb e 5 turni di defense up. Allo stage 3 Sabo vi darà 5 turni di banner dei capitani, 5 turni di despair, e per un turno vi obbligherà ad utilizzare solo due special. Al turno 2, ogni turno farà un super clear dei buff e vi rimuoverà due personaggi random, sotto al 20% vi farà il classico damage. Il team che utilizzo io sarà un team doppio last tap low. In realtà però il personaggio principale, fondamentale per quest'invasion sarà Rebecca. Infatti Rebecca, con la sua special, quindi in un'unica special, che già vi dà una mano con il limite di special che Sabo vi andrà a mettere, rimuoverà sia il bind, sia il despair. Potete utilizzarla come friend captain, se volete avere più punteggio, però vi consiglio comunque di andarvela a prendere, anche perché comunque è garantita con 80 gemme, quindi con due multi ve la portate a casa, però comunque come sub dovete averla. Se andate con lo capitano, potete utilizzare, o comunque con un lo nella squadra, potete utilizzare, se lo avete, Legend Corazon come support, che andrà appunto a rimuovere e vi darà una mano con il bind e il despair. Altro personaggio utile, non fondamentale tanto quanto Rebecca, è questa Reiju da utilizzare nello stage 2, perché infatti anche lei è un'unica special, vi rimuoverà i block orb e anche il defense up. In più è rossa, quindi avrà anche un vantaggio contro il miniboss verde. Vediamo il primo dei miniboss, ovvero Karasu. Karasu sarà Dex, sarà ovviamente il classico miniboss ridicolo, vi darà bad orb, 5 turni di despair e 5 turni di paralisi, però solo dei sub. Molto semplice, molto banale. Qui c'è un personaggio chiave da avere, un po' come Rebecca nell'Invasion, e sarà il nuovo Re-Requid Killer, perché infatti anche lui in un'unica special andrà a rimuovere sia il despair, sia la paralisi, dandovi più spazio di manovra per poter mettere più personaggi. Il team che vedete è un team doppio, dual unit Kaido Big Mom, che sono dell'evento di Onigashima che è attualmente in corso. Sono dei super capitani, hanno una super special, quindi se avete loro già vi fanno una bella fetta del lavoro, e poi comunque in generale, se non avete questo killer, portatevi un despair remover, un paralisi remover, ricordandovi peraltro che comunque ci sono anche dei support che fanno questo lavoro. Poi abbiamo Belobetti. Belobetti sarà rossa, vi darà tutti i block orb, 3 turni di damage threshold, al turno 1 vi loccherà gli orb che potrete sbloccare facendo dei grate, sotto il 50% farà un health cut del 30% e si curerà. Anche qui è abbastanza semplice, vi dovete portare semplicemente qualcuno che vi rimuova i block orb e il damage threshold. Il team che utilizzo io è un team doppio Magellan V2, questo ovviamente è semplicemente per avere più punteggio, perché i personaggi fondamentali qui sono due, che vi rimuove il damage threshold, ma se non avete Magellan potete utilizzare benissimo Six Star Plus Cracker, perché sarà lui, oltre a una serie di buff che vi dà, sarà lui a occuparsi di rimuovere i block orb. Quindi diciamo che vi portate qualsiasi personaggio che vi rimuove il damage threshold, ma comunque questo Ruggi essendo anche free to play dovreste averlo, e comunque penso che Cracker lo abbiano quasi tutti, quindi ve lo portate come capitano anche senza per forza avere Magellan. Magellan non serve ma aiuta. Passiamo a Morley, e già con Morley le cose iniziano a farsi più interessanti. Morley sarà giallo, vi darà 3 turni di blind, 5 turni di attack down, 3 turni di burn, e 5 turni da una barriera di 2, perfect. Al turno 1 e ogni 2 turni vi darà 5 turni di despair, sotto il 20% altri 5 turni di despair, e 4 turni di attack down. Quindi già vedete che qua le cose da dover contrastare sono molte di più. Team con cui andrò io è un team doppio treasure map Shiryu. I sub qui sono tra virgolette inutili, perché alla fine non porto nessuno che rimuove il burn, non è necessario. Shiryu si occuperà di ridurre l'attack down, e alla fine quella è la parte più importante. Quindi di sub, diciamo, sono sub che vi possono dare una mano, ad esempio questo Blackbeard non serve ma aiuta, perché ovviamente vi dà una mano col damage, ma non è assolutamente fondamentale. Un personaggio un po' più utile invece, non dico obbligatorio, perché ovviamente è Shiryu quello obbligatorio, è Burgers, questo Burgers, che peraltro è free to play, di qualche evento fa. Questo anche lui vi darà già più una mano, è free to play, quindi penso che abbiano tutti. Gli altri sono solo personaggi di contorno. Abbiamo quello che è in dubbio il mini boss più difficile, forse anche più del boss stesso, e dell'invasion soprattutto, ovvero Ivankov. Ivankov sarà verde, vi ridurrà il cooldown di due turni, vi farà quattro turni di chain lock, quattro turni di chain down, sei turni di bind delle prime due linee, quindi dei capitani e della middle row, dei personaggi nella linea centrale. Al turno 1 vi farà un health cut del 50%, al turno 5 un altro health cut del 50%, e sotto il 20% vi disintegra, senza nemmeno chiedervi il permesso. Quindi ci sono tante cose a cui dover stare attenti, soprattutto a quel bind, che ne parleremo a breve, ci sarà un po' di accortezze da fare. Questo veramente è un boss molto molto strano, il team con cui vado io è un team doppia, Legend Bonnie e mi raccomando, qui dove mettete i personaggi, ovviamente cercate di portarvi il socket bind al massimo, quindi di livello 3 per darvi una mano, e mettete i personaggi che vi rimuovono il bind nella linea bassa. Nel mio caso ne porto due, ma uno di questi due va benissimo, ma in generale qualsiasi che vi rimuova il bind. Questi sono qui semplicemente perché mi danno il punteggio più alto, e sono appunto Ichiban Kooji, Re-Requit Nami e Re-Requit Apu. Soprattutto questo Apu è quello che lo fa in modo un po' più... lo rimuove in modo un po' più pesante. Un altro personaggio molto utile che vi rimuove il chain lock è questo Cavendish, che era free to play, quindi peraltro sicuramente dovreste averlo tutti. Bonnie è qui semplicemente per dare punteggio, in realtà appunto vedete che il damage arriverà da Rufy e Nami, che sono rossi, ma Bonnie comunque boosta tutti, in particolar modo boosta i viola, però boosta tutti i personaggi. Lei stessa si occuperà di fare un chain lock. Insomma, sembra un team quasi di sopravvivenza, e in parte forse è un po' così. Insomma, è veramente un boss, un mini boss molto strano e molto particolare. Quello a cui dovete stare attenti comunque, long story short, quello a cui dovete stare attenti è il bind. Ultima, ma non meno importante, Koala. Koala allo stage 4 avrà hack, che sarà rosso, vi farà un 30% di half cut, vi darà empty orb, e si metterà 5 turni di percent damage reduction. Allo stage 5 ovviamente ci sarà Koala, Koala farà 5 turni di silence delle special dei vostri capitani, 5 turni di attack down, e 5 turni di no heal. Al turno 1 farà un super killer dei buff, e si aumenterà l'attacco. Sotto il 50% farà 2 turni di nullify damage, e sotto il 20%, classica morte, non lente e dolorosa, ma veloce e dolorosa, perché vi one shotterà. Qui ragazzi, c'è un personaggio, che è il vero MVP, di questa, di questo boss. Più dei point booster massimi, più delle legend, ed è il nuovo Re Requit Zoro. Perché infatti, questo Re Requit Zoro, sarà quello che praticamente andrà a rimuovere, tutti i debuff, tranne il no heal, ma i debuff principali, di questa invasion. ovvero, lo special bind, e l'attack down. E peraltro sarà blu, quindi avrà un vantaggio anche con Koala. Il team che utilizzo io, qua lo vedete ibrido, Rebecca, Law, poi potete spostarlo benissimo, se volete una doppia Rebecca, però ricordatevi di andare con un team prevalentemente blu. Se volete, appunto, più damage, ovviamente, questo Law, o comunque, se lo avete ancora meglio, Last Tap Rufy, questo perché ovviamente, essendo blu, ha un vantaggio nel colore. Però ragazzi, questo Re Requit Zoro, è fondamentale. Purtroppo è brutto da dire, per un Re Requit, ma così è, non vi indoro la pillola. Io l'ho trovato, per un pelo, non so nemmeno come ho fatto a trovarlo, però veramente più importante di qualsiasi altro personaggio, anche dei point booster più elevati. Altri due personaggi utili, ma non per forza indispensabili, sono, ovviamente, quella Reiju, per rimuovere il Percented Emerge Reduction, allo stage 4, e quella Shiraoshi, che andrà a rimuovere il No Healing, all'ultimo stage. Però, non sono obbligatorie. Più Reiju di Shiraoshi, diciamo che Shiraoshi dà una mano, perché comunque, come ho detto, questi tre, Rebecca, Shiraoshi e Reiju, sono personaggi trovabilissimi, garantiti, quindi, do per scontato, che comunque quasi tutti li abbiano. Quindi ragazzi, questa era la Treasure Map Koala. purtroppo è una Treasure Map particolare, perché come avete visto, essendo garantiti i point booster più alti, gli hanno abbassato il punteggio, e non sarà una Treasure Map per niente facile da farmare. L'unica cosa, essendo qua ben umani, un po' tutti allo stesso livello, l'unica cosa, è quella di, di investirci del tempo. è l'unico vantaggio che magari potrete avere su qualcuno, perché comunque in tanti hanno i last tap, praticamente tutti hanno i point booster da 1.6, che sono i point booster massimi, quindi l'unico vantaggio che potete guadagnare, è appunto quello di investirci il più tempo possibile. E basta, poi comunque vedete che è una Treasure Map, avendo anche point booster garantiti, estremamente abbordabile, tranne quelli, Vankov, che se non state attenti, potrebbe causarvi dei problemi, non da poco. Detto questo ragazzi, grazie mille per l'attenzione, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!